Ciao, come ti chiami? Elisa, da dove vieni? Da Scandiano. Ah beh, due parti. Scandiano, Sassuolo, ieri c'era Sassuolo, oggi c'era Scandiano. Scandiano è bellissimo, paesino, dai. Io mi chiamo Mimmo, lui si chiama Matteo. Questa è la testa, eh? Questa è la testa. No, siamo ultimi. Allora lui, credo. No! Ah, come ti ch 1939? No? Uh! Uh! Ah! Ah! Ah, come ti! Ah, come ti! Ah! Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Sì, dammi la mano Sì, tantissimo Saluta il capo Ciao, grazie mille Grazie mille a te Togli gli occhiali Fai così, bravo